Ippica Tappappapparra Eeeh bella ragazzi sui XFile e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su GTA 5 online con il nostro classico appuntamento settimanale Come al solito in compagnia del nostro amico Mino Che ormai è anche un amico Ma soprattutto la nostra amica poltroncina degli acquisti Perché oggi è arrivato un nuovo veicolo su GTA online E stiamo parlando del Lampadati Novak Lampadati Novak è un SUV da 608.000 dollari E così a spanne questo Lampadati Novak dovrebbe essere il Maserati Levante Vedendolo più o meno da davanti Sembra molto Maserati Levante visto da davanti Da dietro ora non lo so vediamo Ma questo non è un nostro problema Quindi andiamo a leggere immediatamente la descrizione di questo veicolo No hai letto benissimo Questa è una Lampadati ma ha anche un SUV Contemporaneamente Perché? Chi può dirlo? Ma se qualcuno ti dicesse di aver creato un incrocio tra un cavallo puro sanque da corsa E un ippopotamo metteresti in dubbio le sue ragioni? No lo compreresti Ti ci faresti un selfie Lo chiuderesti in un magazzino E andresti a vantartene con i tuoi amici Hanno proprio azzeccato il pubblico Che compra il levante Perfetto Cosa che ovviamente avviene con tutte le macchine Perché che ci vuoi fare con una macchina? La usi per spostarti Vai al bar La chiudi in un magazzino Ti fai il selfie E va Comunque sia Andiamo ad ordinarla di colore nero 608 mila dollari E ce la facciamo vantare al garage livello 2 Perché una volta i garage stavano su E adesso stanno giù Ma va bene Notte fonduta su GTA Online Questo vuol dire solamente che il test a questo punto si farà di giorno E per me è molto meglio Quindi ragazzi mi raccomando Superiamo assolutissimamente i 300 like Se volete altri video di questo tipo Dove andremo ad acquistare e modificare i veicoli su GTA Online Mi raccomando controllate che l'hai stendato Cliccatelo per benino Finché inoltre condividete questo video Se lo fate siete dei grandi Chi lo sa quel che dico lo sa Ormai sa è così Questa parte del video va un po' Come meglio vuole A volte si capisce A volte non si capisce Ma comunque sia adesso Pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA Online Bene contattami su Instagram Link qua sotto nella descrizione E ok ragazzi Ed ecco qui il nostro nuovissimo Novak Bello che è arrivato Tranquillissimo E comunque sia sì È il Levante ragazzi È il Levante assolutissimamente Solamente che sul Maserati Qui ci sta tipo lo scudetto del Maserati Mentre qui no E beh spero si possa mettere lo scudetto a questo punto del Del lampadati no Che è un pavonazzo Spero di poterlo applicare qui Così almeno la rendiamo ancora più real Quest'auto Vabbè comunque sia L'auto è quella che è È molto simile Saliamo a bordo Ascoltiamo il sound Not bad Mi sa che questo qui sarà un diretto concorrente del Pegassi Toros Andiamo a modificarlo Allora Freni Li mettiamo al massimo Tra l'altro come potete ben vedere Ho i freni scontati E questo perché Se volete sapere come ottenere questi sconti Andate a vedere il video che trovate Qua sopra nelle schede Comunque sia Paraurti Paraurti anteriore Abbiamo con splitter colore 1 Con splitter colore 2 In carbonio con splitter Diffusore strada Da strada in carbonio E diffusore da gara in carbonio Da gara in carbonio? Sì da gara in carbonio Dai è andata per da gara in carbonio Mentre per il posteriore Un bell'estrattorino Diffusore tuning in carbonio Ovviamente Perfetto E su qui ci siamo Motori Al massimo Marmitte Big bore Beh sinceramente Quelle Standard Sono belline Però big bore Ok Oppure doppia in titanio Doppia alluncata E rettancolare in titanio Quasi quasi lasciare quella standard Perché su sta auto Cioè li vedo bene Perché sono tagliate perfettamente Quindi va bene Cofani Ci abbiamo presa d'aria Not bad In carbonio no Evitiamo Da strada Da strada in carbonio Da corsa Bellino Da corsa Ehm no Evitiamo di mettere la cappa Mettiamo da corsa Che secondo me Tra l'altro Se non mi sbaglio È esattamente quello che troviamo Sull'auto Reale Cioè dovrebbe essere quello Così Con sta presina d'aria Lì giù Se non mi sbaglio Klaxon Ehm vabbè Lasciamo quello che c'è Lasciamo quello standard Fari All'oxeno Kit neon Schema neon Al massimo Poi scegliamo il colore Mentre per quanto riguarda la livrea C'abbiamo già una striscia E mi toccano Nel profondo Proprio Lampadati Ok Una stricetta Il numero uno Ehm Main match No Queste robe Troppo Ehm Evitiamole Perché non mi piace Bella questa Questa è bella Italianissima Regà Però È troppo Copre troppo E come ben sapete A me non Non piacciono più di tanto Queste livrei Che coprono Trotto Trotto Volevo dire tutto Però Cioè Su alcuni veicoli Ci stanno Ma qui A meno che non vogliamo fare il veicolo del giro d'Italia Mettiamo quello con la striscia E via Ok Come al solito Targhe Personalizzate Verniciature Colore principale Vediamo un attimino Come andare a fare questo levante Solitamente il levante Gira Un po' in colorazione Che è torto Rabbo Vediamo se troviamo Qualcosa di simile Boh regà Purtroppo non ho trovato nulla di simile Però mi ha ispirato Il blu scuro Quindi entri a mettere blu scuro E quasi quasi vi dirò Prima di entrare sul colore principale Passo di nuovo dalla livrea E metto la striscia nera ragazzi Metto la striscia nera Così manteniamo un tono molto più scuro E aggressivo Grazie Fortnite Si tolga Perché non vedo Colore secondario Invece cosa va a modificare Agli specchietti per ora Quasi quasi lascerei nero Giusto per mantenere Un senso coerente Diciamo sul veicolo Sulle colorazioni del veicolo Mentre per quanto riguarda il tettuccio Abbiamo portabagagli Oppure il baule in carbonio What the hell Particolare come modifica Avere il baule lì su Ma no Non mettiamo nulla Minigonne Minigonne Cioè abbiamo un lip in carbonio Discreta In carbonio Ok Da strada in carbonio E da gara in carbonio Da gara in carbonio Andata per da gara in carbonio Ho sbattuto il gomito Aia Spoiler Alettone in carbonio Lì piccolino Ah sul Sul basso Meglio questo Ah la strada Il lip Cofano colore 1 Ok Bello 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 In carbonio Ah questa qui Questa qui Sembra una roba Da need for speed Che tra l'altro Arriverà Qualche video Tra davvero pochissimo Su need for speed Quindi tenetevi pronti E mi piace questo Regà In carbonio Alla gara Lip Cofano colore 2 Mamma mia Che casino di nome Sospensioni Le abbassiamo al massimo Così lo rendiamo bello Racing Trasmissioni al massimo Turbo Item Ruote Tipo di ruote Andiamo a mettere Le hobbe IRS Dai Non stanno malissimo Colore Cerchioni Nero tutta la vita Ragazzi Pneumatici De sempre pneumatici Mettiamo solamente La scrittina Atomic Ci può stare Gomme antiproiettile Mettiamole Il fumo Blu Andata per il blu Finestrini Molto oscurati E abbiamo finito Con le modifiche Ci rimane solamente Il colore del neon Che lo mettiamo Blu Oh regà Devo dire che È figo Cioè Molto cattivo Bello mi piace Così lo voglio Usciamo fuori E andiamo a provarlo Immediatamente Ed eccoci qua fuori Ragazzi Con il nostro Nuovissimo Novak Bello Che è modificato E devo dire Che non è davvero Niente male Mi è piaciuto Tantissimo Questo colore Avrei preferito Sinceramente Poter applicare Lo scudetto Del lampadati Così almeno Sembrava più Il maserati Reale Belli cerchi Finalmente ho trovato Un cerchio Che mi piace Beh l'auto Sembrerebbe essere Molto sportiva So che la parola SUV E la parola Sport Insieme Non vanno d'accordo Però Ha un assetto Bello basso Sempre a essere Poi così male Voglio dire Vabbè Ascontiamo il sound Una volta modificato Non è male Però Peccato Che non scoppietti Ragazzi Mi aspettavo scoppiettasse Una roba del genere Ma va bene così Rilasciamo il freno a mano Trazione 4x4 E già me ne sono reso conto Accelerazione Molto Ma molto buona Direi onesta Ovviamente Classificato Nei SUV Va davvero tanto Ragazzi Va davvero tanto Come se va Guarda come corre Interessante Interessante Ragazzi Secondo me È un diretto Concorrente Del Toros Per l'esattezza Il Lamborghini Urus Ma va bene Andiamo sull'autostradina Della velocità E vediamo Come va A livello di tutto Gli interni Boh Sembrano riciclati Dalla Model S Si li hanno Riciclati Dalla Model S Sinceramente Per quanto riguarda La velocità Non so dirvi Perché sempre essere veloce Però non guido il torso Da veramente tanto tempo Quindi non so dirvi Con l'esattezza Quale dei due È più veloce Quindi bene Se non mi schianto prima Io direi di procedere Con il test della frenata In 3 2 1 E Via L'auto si è messa Praticamente in avanti No cioè Diciamo che c'ha la massa Perché comunque Un due tonnellate Ci peserà sta roba Comunque beh dai La frenata Ci può stare Considerando che un SUV Nella norma Comunque sia Per quanto riguarda La tenuta Vediamo un attimino Come se la cava Vi ricordo che è un'auto 4x4 E già sono andato Fuori strada Bene Eeeh Non so perché Ma la tenuta Non è niente Di che Rega Cioè Una volta che ti scappa via E ha davvero Un margine d'errore Bassissimo Una volta che scappa via È finita Non la prendi più Va a testa coda Ti schianti Poi tra l'altro Oggi c'è un traffico Quello santo Che non lo so E vabbè Sulla tenuta Bocciato Vediamo le curve In alta velocità Se riesco a farle Vediamo Test numero uno E si va Belli che dritti Ragazzi Al primo test Già andiamo Belli che dritti Anche al secondo Un po' meno Ma siamo lì Lì avevo lasciato Un attimino il gas Lascio il gas prima E riesco a fare la curva Ok Con il gas A tutta forza Riesco E non riesco Se non mi sbaglio La Toros Riusciva meglio A fare le curve Ad alta velocità E anche la tenuta Era molto meglio Quindi non mi sento Di bocciarla anche Dal punto di vista Delle curve Ma neanche Di promuoverla Perché è tipo Nella media Regà Boh vabbè Se dovete fare gare Probabilmente Non è la scelta ideale Mentre per quanto riguarda Il drift Riusciamo a fare qualcosa Visto che quest'auto Ama mettersi di traverso A quanto pare Eh vedi 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 che il drift Te lo fa bene Il drift Signori Ve lo fa bene Non lo so Secondo me C'è un piccolo problema Di fondo Perché dovrebbe avere Più tenuta Che possibilità Di drift St'auto Ma va bene così Cioè Chi si lamenta Se non mi sbaglio Il Toros Invece non driftava Manco ammazzato Beh se non altro La promuoviamo Dal punto di vista Drift Quindi ragazzi Se cercate un SUV Da drift Cosa vi devo dire Se cercate un SUV Da drift Questo levante Qui Avoc Novak Come si chiama E' buono Terzata ad alta velocità Non ci siamo affatto Velocità massima Ci può anche stare Prenata Ci siamo anche Tenuta Fa schifo Se avete un milione Di dollari Da buttare Dello spazio Nel garage E comunque sia Vi piace l'auto in sé Potete comprarlo Altrimenti Se cercate un SUV Molto più Pratico Da guidare Meglio il Toros Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sperare Se il video vi è stato Lasciando un bel like Oggi abbiamo acquistato E modificato Il nuovissimo Lampadati Novak Bell'auto A livello di modifiche La pecca più grande Secondo me È la tenuta Perché senza la tenuta Vai da poche parti Quindi ragazzi Mi raccomando Superiamo assolutissimamente 300 like Se volete altri video Di questo tipo Dovete acquistare E modificare I veicoli Su città online Mi raccomando Controllate Che l'ex è andato Cliccatelo per venire Oltre Condividete Quindi se volete passare Dalla mia E' tutto Bella raga